Oggi vi parlerò della mantecatura. Sai mantecare? Guarda questo video. Ricordiamoci sempre che per mantecare un buon risotto, una pasta o ad esempio una purea, è sempre meglio utilizzare un elemento grasso ghiacciato come il burro oppure un olio freddo. Lo shop termico renderà il vostro risotto ben mantecato, quindi cremoso. Ricordatevi inoltre che tutti gli elementi per la mantecatura possono essere usati anche al naturale oppure aggiungendo degli elementi, per esempio le carapace di crostacee come in questo caso, oppure delle spezie. Possiamo usare un burro con delle erbe aromatiche, rendono ancora più saporito e gustoso la vostra ricetta.